Sono Giù. Sono Fabio. Siamo Braden & Loub e lavoriamo insieme a Solar Ceramica. Il SolArt inizia in 2000. All'inizio iniziamo con le cose tradizionali. E poi Fabio è il mio headmaster. Abbiamo preferito provare nuove tecniche. La Ceramica è semplice per fare. Necessitiamo solo gli occhi e colori. Puoi mixare gli elementi della natura. Il grado, l'acqua, l'acqua e l'air. Perché tradizioniamo questi elementi in un piccolo pezzo di arte. È un uomo che ha un grande cervello, una grande immaginazione e un grande cuore. L'acqua italiana. Mi piace molto la pasta con... ...tomato? ...olive? 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 È un uomo fresco. Molto buona insalata di riso. È buono! Ma il mio cuore preferito è... ...ho molti preferiti! C'è un significato molto grande delle spirali. Ho avuto in particolare una vita con molti problemi, ma ora è tutto ok. Ma il significato delle spirali è che è come un simbolo della vita. Grazie per la visione.